Tra le altre cose, mi sono visto un po' di freebooting, delle robe successe in maratona, e c'è stata una cosa che mi ha colpito particolarmente, ovvero quando abbiamo parlato dei film di Dragon Ball. Non so se vi ricordate, come Mattia, eccetera, era di notte. Allora, si parlava di stronzate, argomenti, eccetera, silenzio, tutti a ridere, eccetera, nei commenti. Si parla dei film di Dragon Ball? Follia. Follia. Io non so com'è possibile, grazie a Andrea Zanna per l'abbonamento, che adesso Dragon Ball è sempre stato un prodotto forte, no? Fanno affezionati, eccetera. Va benissimo. Ma qui, ragazzi, si va avvicinando la religione. Cioè, è proprio un fondamentalismo, quello di Dragon Ball. Ma che cazzo fa? Allora, si parlava tranquillamente dei film, si cazzeggiava, si parlava di Broly, e io ho detto, secondo me, hanno fatto diventare Freezer, come piccolo. La gente, questo qui, come si permette di dire che hanno rovinato Freezer, Dragon Ball di qui, di là? Allora, Dragon Ball è un bellissimo prodotto. Ci sono cresciuto, l'ho amato, lo amo, ed è uno dei manga che mi ha cambiato la vita. Ok, benissimo, ci siamo. Ma, come tutte le cose belle, tutte le cose che ami, quando ti fanno del male, ci soffri ancora di più. Broly per me è una stilettata nel cuore. Ok? Benissimo. Però, se io ti porto delle critiche forti, dicendo che Freezer ha fatto la fine di piccolo, Vegeta ha fatto la fine... cioè, è stato sempre piccolo, era cattivo, vai, buono. Vegeta, cattivo, vai, buono. Freezer, cattivo, vai, buono. Quello che è, insomma, sta diventando uno zunderino. Sono tutti diventati zunder e poi buoni. Se io ti dico che Toriyama sta ricalcando sempre le stesse dinamiche, te non mi puoi rispondere con Eh, ma Dragon Ball è sempre stato così, non ti puoi lamentare. Ma come, Dio Madonna, non ti puoi lamentare? Proprio perché è sempre stato così, cerchiamo di cambiare un po' le cose nel 2020. E poi, non è che è stato sempre così perché... Ah, l'estro artistico. Toriyama, invece, te lo voleva far schiantare in mille pezzi. Solo che piaceva al pubblico. Le cartoline fioccavano, ok, lo faccio sopravvivere. Quindi Toriyama è una sega perché è la decisione del pubblico e dell'editor di conseguenza. Ora, per fortuna, Toriyama ha preso le distanze, ovviamente non c'entra più una sega, ci mette solamente la firma. Quindi, ragazzi, evolviamoci un pochino, no? Prunque, ognuno può essere d'accordo o in disaccordo con me. Voglio che la mia parola sia religione. Però incazzarsi così tanto per Dragon Ball, quando Dragon Ball è sempre stata un'opera difettosa, bella nei suoi difetti, non ha senso, perché le opere perfette sono pochissime. Pochissime. Che non hanno difetti. Sono poche, si contano veramente sulle dita di una mano, di due mani, va. Ma Dragon Ball non è tra queste. Ma va benissimo, lo amiamo proprio nelle sue imperfezioni, perché è talmente delirante a un certo punto, che lo amiamo a prescindere. Perché va bene. Perché va bene. Perché nella sua pigrizia Toriyama trovava sempre l'idea che ci faceva appassionare sempre di più, grazie a Sykes Wife per l'euro. Grazie a te. Come la fusione. La fusione non è manca un'idea sua, è un'idea di cazzura, vai, ce la butto dentro e via. È bellissima l'idea. Ma è una cazzata di base. È stupenda. Mi riguardo il video della fusione mille volte all'anno. Va bene. Ma è una cazzata. Fatta... Cioè, che colpisce il cuore, ma rimane una stronzata. Quindi, non c'è... Come Giorgio. Qual è Giorgio? Giorgio lo amo, ma è imperfetto. Fa accola a tutte le parti. Però lo amiamo lo stesso. Ma anche io critico Giorgio. Giorgio, ragazzi, eh. Lo sapete quanto si è affezionato a Giorgio? Ne parlo più di caverna con Dragon Ball, dio madonna. Cioè, un conto poi è Vegeta, no? È un Saiyan. Ok? È un Saiyan. Quindi, anche lui è sensibile alla topa. Viene convertito dalla topa. Si innamora dello stile di vita della Terra. È bello, perché Goku è un Saiyan buono, che ha influenzato un Saiyan cattivo, quindi un suo fratello, diciamo così, in un certo senso, del suo stesso popolo lo sono pochi, e Vegeta, nonostante fosse un guerriero pezzo di merda, è riuscito a convertirsi. Piccolo uguale, grazie a Yato per l'Euro. Era uno stronzo, però era il figlio di uno stronzo, e a differenza di Satan, che era la malvagità pura, lui è venuto fuori in una maniera un po' diversa. Cioè, è venuto fuori più addolcito. E poi Goku è riuscito a convertirlo. Ma Freezer, ragazzi, Freezer. E poi c'è tutto il discorso che è la metà di Dio, e quindi vabbè. Ma Freezer, porca puttana, è un fottuto distruttore di pianeti. Cioè, è proprio Stermian, è Hitler, non me lo puoi far diventare buono. Per me. Preferivo Cell? No. Cell nemico incompreso. Beh, senz'altro è affascinante. Però quella saga lì ha tantissimi problemi. No, ma Jin-Boo era buono perché era buono, perché aveva assorbito il tizio, il Kaioshin buono, buonissimo, e la sua parte carattiva era proprio stata espulsa dal suo corpo. Freezer non è espulso proprio una sega, è rimasto sempre il solito. Ho capito, Mori però stermina il pianeta Vegeta, perché aveva paura del Super Saiyan. Cioè, non si fa problemi a massacrare donne e bambini, tutti con un colpetto, sì, e fa esplodere i pianeti. Cioè, se te non dai soldi a Freezer, esplodi. Cioè, Namek ha visto che cazzo è fatto, ha sterminato tutti i villaggi per poter ottenere le sfere. Cazzo, è Hitler. Dario, ma come lo intendi tu, Freezer buono? Io non è che... Noi non lo vorrei vedere nemmeno... Cioè, non è buono per me adesso Freezer, ora è Zundere. Cioè, fa tutto... Sì, la prossima volta e l'ho fatto in realtà perché voglio ucciderti io, Goku. Intanto però lo aiuti. Intanto però lo aiuti contro Jiren. Cioè... È Zundere. Cioè, ti aiuto però a non fraintendere. È un classicone, l'ha sempre fatto. Poi bisogna vedere come si evolve la cosa, però l'ha sempre fatto Toriyama. Bah, bah, Bernalorini. Non buono nel senso è diventato... San Francesco. Però sicuramente non è più il personaggio terrificante che era un tempo. Non lo è più. Da tanto. In realtà non me la sono presa. Stavo riflettendo sul fatto che il fan secondo me è difficile che apprezzi un'opera a pieno perché per apprezzarla a pieno devi riconoscere anche quando è fallace. e il problema è che quando vedi in quello che dice un'opinione diversa dal gruppo un nemico allora è quello un problema. Tutto qua. Ma è in realtà una riflessione sullo show business in generale. Parlo di serie tv, film, anime, show televisivi americani, cartoon americani. Quello che cazzo ti pare? Quello che diavolo vuoi? Ma c'è il fan e l'esercito dei fan che addirittura adesso influenza talmente tanto l'opera con il proprio giudizio che la storia va a seconda di dove dice il fan. Questa cosa è una cosa pericolosa. È una cosa, a mio parere, brutta. E che soprattutto snatura la vera essenza di un racconto artistico perché non è più l'artista a fare l'opera ma è il fandom. E questa cosa qui mi fa molta paura. Per quanto riguarda invece Togashi è un discorso un po' diverso perché il fandom non si incazza tanto per quello che sta facendo in questo momento Togashi ovvero il nulla si incazza perché Hunter x Hunter viene annunciato in pompa magna. Ora torna Hunter x Hunter un capitolo morte. Allora quello che fa incazzare i fan secondo me di Hunter x Hunter e che ha fatto incazzare anche me ora basta l'ho messa via e basta è che Togashi deve prendere una decisione perché sta male? ok allora ritirati di ragazzi la malattia non mi permette di andare avanti basta la chiudo se un giorno guarirò continuerò adesso no non posso ok però fare una pausa così lunga ok così lunga tra un capitolo e l'altro tra una serie di capitoli e l'altro rovina te perché non ti concentri abbastanza sull'opera perché continui a essere distaccato fai delle pause lunghe poi ti rimetti a lavorare eccetera a un certo punto non ci capisci più una sega e rischi grosso oppure ti prendi una pausa bella lunga dove probabilmente ha una malattia alla schiena però anche lì non si è mai capito bene cosa abbia ti prendi una bella pausa e poi riprendi quando arrivi carico se riesci a guarire ovviamente con tutti i miei auguri perché sei un genio quindi ok e perché se vai avanti e fai continuare una storia che arriva addirittura a un punto morto quindi anche la storia è a un punto morto e devi dargli quello slancio in più se non sei te carico se non glielo sai dare lo slancio perché non sei te lanciato è un casino devi prenderti i tuoi tempi oppure se è falsa la cosa della schiena perché ammetti dici cosa c'hai perché così almeno capiamo anche l'entità del problema e capiamo se preoccuparci seriamente di te o meno perché ovviamente si vocifera che in realtà lui ci marci un po' su questi dolori della schiena oppure di ragazzi Hunter x Hunter è un'opera con un world building incredibile forse il migliore del panorama battle shonen che è la verità a mia parere Hunter x Hunter per me è uno dei migliori world building che esistano sulla faccia del battle shonen perché è perfetto non ha una sbavatura e tutte le cose ti fanno intrippare dalla vendita dei vasi alle carte di grid island benissimo perfetto andiamo avanti dici guardate ragazzi ho creato talmente una roba grossa che non riesco a gestirla se non mi prendo un po' di tempo mi prendo due anni ok sto zitto due anni non faccio annunci non faccio capitoli una tantum si scusatemi non faccio un capitolo una volta ogni tanto non faccio una serie di capitoli che poi vi lasciano col fiato sospeso però poi vi sparo due o tre volumi in successione vi faccio la saga ve la do e siamo a posto e ci si rivede fra due anni basta la gente perché non sono stupidi i fan di Hunter x Hunter perché leggono Hunter x Hunter quindi non possono essere stupidi dicono va bene Togashi se se mi dai una saga ogni due anni due anche anche due anni e mezzo tre ma me la dai come me l'hai sempre saputa me l'hai sempre data a posto poi se stai male dici cosa c'hai basta renditi pensa alla tua salute non pensare a fare i capitoli perché non ha nemmeno senso perché non puoi tenere doppia di una scarpa fai incazzare i fan ripeto io l'ho messa via a me non mi interessa fai come ti pare fai incazzare i fan perché gli dai un capitolino o cinque sei capitoli che siano una volta quando ti svegli e fai incazzare e fai venire sospetti soprattutto alle persone che ti credono in realtà un finto malato oppure hai il blocco dello scrittore ammetti non c'è problema ce l'ha anche nowhere il blocco dello scrittore vai a stagioni vai vai fai come ti pare che poi metti nella merda anche quelli che ti devono fare la trasposizione anime perché ora è ferma la serie anime di Antirix Hunter che si fa? un altro debut un altro remake un altro? no aspetta no annuncia cioè prenditi un impegno se poi non ce la fai perché la salute ti rinuncia rinuncia io sono Collins si l'avevo letta anche con l'intervista Dario un anno e mezzo fa ha fatto un'intervista specificata nei commenti del jump di aver settato la storia da qua alla fine non ne dubito di questo lui ha intenzione di finirlo fa 10 capitoli consecutivi che sono un volume alla fine del manga mancano massimo 3 saghe di 200 capitoli circa bella botta però sì eh e secondo me un giorno si renderà conto di non farci lasciare il disegno a qualcuno è vero vediamo che poi con i giapponesi la verità non la sai mai starà male veramente non starà male al blocco dello scrittore una concatenazione di tutti questi fattori qual è la verità capisci? ed è tutto sempre molto più sospetto comunque non importa ma no ragazzi non è un fattuto d'orgoglio se domani uscisse un'intervista di Togashi con scritto allora ragazzi in realtà io c'ho il blocco dello scrittore la gente droppa cioè noi siamo tutti appesi aspettando lui che vuole darci i capitoli che non che ci dà i capitoli ma se lui ammettesse una parola del genere dai ragazzi qualcuno lo droppa se tantissimi lo droppano sicuro dicono beh vaffanculo basta già tanti l'hanno fatto però le vendite sono grosse lo stesso no allora ragazzi deve essere chiaro questa cosa qua però eh non guardate slam dunk smettete istantaneamente ora in questo momento di guardarlo dovete dimenticarlo quell'anime lo dovete guardare solo dopo aver finito il manga ma Dario te dici così perché ti piace più il manga no slam dunk è uno di quei casi in cui l'anime non finisce viene stoppato a metà come gto non guardatelo perché finisce con una partita d'allenamento non è uno spoiler finisce mentre c'è una partita d'allenamento quindi non si va avanti con la storia a un certo punto puff scomparso leggete slam dunk one punch man ragazzi è bellissimo non ho da dire altro è molto bello è molto bello e sono contento di aver azzeccato quasi tutto sono quando ho letto nel 17 mi pare praticamente quasi tutte le conferme a quello che ho sempre detto negli anni ho detto ma porca troia avevo ragione cazzo bellissimo anche se avevo ragione sono stato contento d'averci preso allora ragazzi è un bottone come si dice a Livorno cioè è una roba talmente oltre ormai che vabbè grazie anonimo per l'euro è tutto un continuo vai vai però come lo mette in scena a Murata mamma mia con One che ovviamente li alza la palla cioè veramente te sei lì e godi grazie a FreeWiFi per l'euro anche FlashyFlash lì cioè c'è quello scontro lì contro i suoi due allievi lì no contro i suoi contro i due del suo villaggio lì ma cosa vale cioè personaggi di cui non ti interessa una sega fino a quel momento che fanno esplodere il loro potere e fai porca troia poi a un certo punto vabbè cioè comunque Saitama nell'ultimo e allora io ho recuperato ho riletto dal 10 al 13 14 e poi ho letto per la prima volta dal 15 al ah ai capitoli di ora Saitama appare vi avverto subito ragazzi una decina di volte forse in tutto e ha una parte veramente marginale a parte una cosa grossa sono contento perché vi dico la verità ragazzi mutatemi mutatemi vi prego che sto per fare uno spoiler sono contento che a quanto pare a quanto pare Saitama è un Deus Ex Machina lo è sempre stato va bene ma sono contento che non sia un troll cioè non sia un personaggio troll perché da quel che sembra è non è un personaggio troll secondo me come ho sempre detto e come ormai ci hanno suggerito un po' tutti i personaggi è un essere misterioso ora occhio ragazzi perché sto per fare uno spoiler clamoroso vi dico basandomi su quello che viene detto nel volume 17 se non erro vi dico come la penso su tutta la storia e vi dico la mia interpretazione di quello che ci vuol dire One ok mutate se non mi volete sentire allora nella casa lì dell'evoluzione che non è più il barino e i takoyaki ci viene detta una cosa ci viene detto che siamo noi umani a definire i mostri come tali mostri esseri misteriosi come vi pare ok facciamo mostri che è più short siamo noi a definire i mostri come tali ma però essere misteriosi è meglio essere misteriosi perché c'ha più senso mutate mutate ragazzi vi faccio segno così quando potete rialzare ok ok stavo dicendo ci viene detto ok sono noi umani a chiamare mostri o esseri misteriosi le creature strambe ok però ci sono più categorie di questi esseri misteriosi cioè categoria numero uno categoria numero uno ovvero gli esseri misteriosi che sono tali perché sono nati mostri cioè il vampiro per esempio è nato un mostro e quindi è un mostro poi ci sono i mostri che vengono da altri pianeti oppure fanno parte di altri popoli all'interno della terra però tipo il popolo del mare il popolo della terra quelli che arrivano da dallo spazio come Ginos o Genos come cazzo si chiama e vabbè quelli vengono chiamati mostri poi ci sono quelli che hanno sviluppato delle fobie delle ossessioni talmente tanto che sono diventati mostri ed erano umani ok detto ciò ci sono alcuni divesti e poi aspetta e poi c'è una quarta categoria che sono gli eroi ovvero tutti quelli che hanno sviluppato queste robe qua ma hanno messo a disposizione i loro poteri per la giustizia e quindi sono diventati eroi ma nella casa dell'evoluzione e secondo me Wann ci sta comunicando questo Wann ti dice zio mostro o essere misterioso che sia è una definizione che abbiamo dato noi in realtà i supereroi sono esseri misteriosi come gli altri sono esseri misteriosi come gli altri porca puttana perché semplicemente loro si va bene usano i poteri per la giustizia ma non sono umani sono sopra sono sopra sono sopra umani sono supereroi solo che uno si trasforma in un essere un po' più bruttarello l'altro si trasforma in nero lucido ma sono sempre comunque esseri misteriosi perché improvvisamente hanno ottenuto una forza misteriosa come nero lucido che allenandosi allenandosi ossessionandosi a dismisura è diventato così potente quindi ragazzi saitama come garo è un essere misterioso solo che garo ci è arrivato prima perché è più furbo ma saitama è un essere misterioso come lo è come lo sono tutti lo sono tutti e questa cosa secondo me su questa cosa punteranno tanto più avanti poi c'è chi si trasforma in un mostro è più un mostro come definizione ma secondo me anche supereroi sono esseri misteriosi o mostri però staremo a vedere fine spoiler come un sentito ciao 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 Grazie.